Mo, ciao! Salam aleikum! Non c'era bisogno, aleikum salam. Che piacere vederti. Sì, bene. Ehi, le scarpe puoi tenerle. No, che schifo. Entra pure. Come te la passi? Guarda, ti faccio vedere. Perché devi rimetterti a vendere quella merda? Senza documenti posso solo mettermi a vendere quelle cose. Ma devo aiutare la mia famiglia. Moto perpetuo. È l'ultimo che ho. L'ultima che ho. L'ultima che ho. L'Islam è molto concreto. Con Dio ci parli gratuitamente. Devi venire in chiesa con me una volta. Cos'è la Trinità? Fammi capire. E se il Padre, l'Eco e 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 l'Eco. E che fai? No, ferma, no, ferma. No, annullala. Ma la c'è in tutto il baleo di Mohammia e Falastonia. Ma la c'è in un po' l'andone. Le piacciono i suoi capelli. Grazie. Vuole che tolga le scarpe e vorrebbe che lei non fosse polacca. Scherza. Un vero burlone. Non sono mai stato in Palestina. Non ho la cittadinanza lì e nemmeno qui. Sono soltanto un rifugiato. Vuole provare un po' di hummus al cioccolato? Hai detto hummus al cioccolato. Hai appena offeso mia nonna. Lo sento. Non sapevo che l'hummus fosse messicano. Continui a pensare di dover fare tutto da solo, ma non è così. Hai noi due. E hai la tua famiglia. E tu che diavolo sei? Amico della droga. Anche da dove vengo io? Il furto delle olive è un problema. Da dove? Palestina. Cavolo, è un paio d'ore da qui. No, non Palestina, Texas. È Israele. Oh, shalom. Sì, c'è un problema di identità.